Prima di dormire guardiamo qualche serie tv o qualche film. Metti i colori a caso, vedete? Io queste cose qua mi fanno impazzire. Benvenuta nel mio angolo make-up. Dentro a questo mobile ci sono tutti i miei trucchi. Alcuni mascara che io uso, chiaramente sono di diversi tipi in base all'effetto che voglio. I miei rossetti rossi e rosa. Le tinte marrone, arancioni e tutte le matite, labbra e occhi sulle tonalità dell'azzurro. Ogni palette ha chiaramente dei colori diversi in base all'effetto che voglio. Vieni MTV, adesso ti porto nella stanza dove avviene la magia. Vieni, vieni. Eccoci qua, questa è la nostra camera da letto. Tutto abbastanza abbinato. La sedia color panna come i lenzuoli. Sui comodini, come vedi, ci sono dei libri perché prima di dormire guardiamo qualche serie tv o qualche film. Poco prima di dormire invece facciamo entrambi una mezz'oretta circa di lettura, ci piace leggere. Questo pigiama merita, lo devi assolutamente vedere. Magliettona presa a Cancun in vacanza e bisogna sempre essere sexy anche quando si va a dormire e quindi... Non è finita qua perché c'è anche il retro, aspetta. Eh? O no? L'alternativa audace al pigiamone. Dai, spacca. Tutto questo armadio è tutto di Lorenzo, quindi sono stata persino troppo magnanima nel lasciargli lo spazio. L'armadio di Lollo è gestito da me, anche io sono molto brava su questa cosa della sistemazione, anche cromatica, per trovare le cose. Tranne questa parte, dove sistematicamente questi calzini li lancia e io impazzisco ogni volta e che li devo mettere a posto. Metti i colori a caso, vedete? Io queste cose qua mi fanno impazzire. Ha messo il verde vicino al bianco che invece va qua. Vabbè, per questa volta lo perdoneremo, dai. Lorenzo, come ti sei permesso? Grazie. 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 Grazie.